Ciao, sono Salvatore Aversano. Mi candido perché credo fermamente nel progetto del Movimento 5 Stelle, in un percorso comune di cambiamento e di consapevolezza, che ci porti assieme a migliorare le condizioni sociali e culturali della nostra terra. Sento di far parte di questo percorso, intapreso da tempo insieme ad altri cittadini. Anche nel mio comune, San Marcellino, in provincia di Caserta, come tutti, conosco bene i problemi che ci affliggono. Siamo in piena terra dei fuochi, qui è una guerra. Nel Movimento 5 Stelle contano le idee, non le persone, e sono quelle che devono andare avanti. Anche per questo motivo ho pensato che potreste essere voi a farmi delle domande sotto questo video ed io vi risponderò volentieri. Siamo in movimento, entreremo in regione portando aria fresca e cambiamento, nuove idee e nuovi progetti, concreti per la nostra terra.